Mentre prosegue il lavoro sul campo nel pre-ritiro rosso-blu, continua il lavoro di costruzione della squadra da parte della società che blinda il reparto centrale della difesa con un altro giocatore di esperienza nonostante la giovane età. Si tratta di Alessio Lazazzara, 22 anni, già da qualche giorno aggregato al gruppo guidato da Mr. Tortora. Nato a Roma e cresciuto nel settore giovanile della Lazio, approda in Dico nel Rieti, dove ha giocato da fuori quota titolare con 20 presenze e 3 gol. A gennaio è approdato nella Nuorese, dove ha completato la stagione con 16 presenze e 2 gol. Ho giocato con Bilea lo scorso anno e due anni fa con De Martis nel Rieti. In realtà conosco un po' tutti i giocatori perché sono tutti di esperienza. Sono felice di poter iniziare questa avventura in una squadra importante e in una società che ha così tanti tifosi appassionati. Per un calciatore basta questo per trovare le motivazioni per far bene. Mi metterò a disposizione del mister per ritagliarmi un posto in una squadra dove c'è tanta concorrenza. Non prosegue invece l'avventura di Federico Di Paolo in rosso-blu. Dopo alcuni giorni di ritiro il giovane difensore ha deciso di far rientro a casa per motivi strettamente personali. Grazie a tutti.